All'ospedale San Gerardo non ci sono posti auto a sufficienza per i dipendenti. E' la segnalazione della Will FPL dell'Ario e Brianza, che ha scritto una lettera alla direzione per chiedere un confronto sulla problematica. Purtroppo, scrive nella missiva il segretario generale Massimo Coppia, la carenza di spazi adibiti a posti auto riservati ai dipendenti all'interno dell'ospedale sta causando molti problemi a personale di tutto l'istituto. Abbiamo ricevuto dalle lavoratrici e dai lavoratori moltissime segnalazioni, dice Coppia. Da qualche mese è quasi impossibile accedere al parcheggio interno dopo le 8.45, perché risulta completamente pieno. La situazione causa un danno economico ai dipendenti, che non trovando posto devono parcheggiare a pagamento. Ma il problema rischia di rallentare anche tutta l'organizzazione lavorativa dell'ospedale, con forte stress per il personale. A volte, spiega il segretario generale della Will FPL, per i ritardi avvenuti a causa della mancanza di parcheggio, alcuni dipendenti sono stati oggetto di procedimento disciplinare. Per questi motivi, la Will FPL dell'Ario e Brianza ha chiesto al direttore generale dell'IRCS San Gerardo Silvano Casazza e al presidente della Fondazione Claudio Cogliati di scattare una fotografia del bisogno di posti auto da parte dei lavoratori, dopodiché di aprire un tavolo con tutte le organizzazioni sindacali per una gestione condivisa dei fabbisogni.